Allora siamo con Loris Bacchetti, a lui chiediamo innanzitutto come stai? Sto meglio, bisogna ancora di un po' di pazienza perché ho avuto una riga duta e quindi sto lavorando per ritornare al meglio È dura vedere i compagni soffrire, tu essere fuori, soprattutto dopo che eri pronto per tornare in campo purtroppo c'è stato questo brutto incidente, casualità purtroppo, però bisogna aspettare ancora un po' Sì, purtroppo i tempi erano stati rispettati, non avevo accelerato più di tanto e è andata così Sto soffrendo da pazzi perché stare fuori, soprattutto le partite in casa, è veramente una sofferenza vedere i miei compagni senza poter intervenire Però ci si abito dopo un po', ecco, sta per finire questo periodo di guarigione Sarà difficile vederti prima della sosta natalizia immagino? Sì, sicuramente, probabilmente rientrerò alla prima di gennaio, però non è detto, ecco, vediamo come si evolve la situazione senza mettere dei paletti, ecco, delle date prefissate I tuoi compagni nel frattempo hanno avuto un periodo di difficoltà, avevano vinto con il Taranto, io c'è stata quella sconfittrica di Catania Però tutto sommato questo giro d'andata nel Monopoli si può dire più che positivo, sia dal punto di vista di, prima dell'infortunio ovviamente tuo, sia dal punto di vista della squadra in generale Sì, 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 positivo perché arrivare a 22 punti al punto in cui siamo oggi avrebbero firmato tutti probabilmente Certo, con una partenza del genere ci si aspettava magari qualcosa in più e normale da parte di tutti Però penso che ci possiamo riprendere, non c'è nessun problema per adesso Bene, noi ti auguriamo un bocca al lupo, ti lasciamo libero perché so che hai degli impegni e ti ringraziamo per la disponibilità Grazie Grazie